Belle canzoni. Qualche chiacchiericcio. Le solite polemiche. Il Festival di Sanremo è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno e i perché sono molteplici. Certo. Non sempre è stato un successo. Alcune edizioni sono finite dritte dritte nel dimenticatoio per una qualità imbarazzante. Per l'assenza di glamour, vip e così via. Ma ci sono anche i siparietti imbarazzanti. Episodi che hanno segnato in negativo la storia della Kermes Canora. In questa categoria possiamo sicuramente annoverare le cadute dalle scale. Sempre più frequenti e sempre più. Indimenticabili. Non a caso la scalinata del teatro Ariston, è tra i passaggi più temuti da conduttori, concorrenti e ospiti. Per questo e molto altro è arrivato il momento di andare a ricordare i momenti poco edificanti o quantomeno incresciosi della storia del Festival di Sanremo. Prima di dedicarsi alla Divina Commedia e al Cantico dei Cantici, Roberto Benigni è stato protagonista al Festival di Sanremo con Siparietti Ott. Dagli assalti a Pippo Baudo al Bacio a Olimpia Carlisi. Fino alla sbirciatina sotto il vestito di Manuela Arcuri nel 2002. Una delle cadute più celebri del Festival di Sanremo è quella di Michelle Unziker nell'edizione 2007. Nel corso della serata finale, la conduttrice svizzera viene tradita dal proprio abito, ritrovandosi sdraiata a terra di punto in bianco. Repentino il soccorso del padrone di casa Pippo Baudo. Nulla di grave per l'elvetica se non un brutto ricordo. La presenza di un super ospite non sempre coincide con un siparietto stellare. Nel 2011 il big atteso All-Ariston è Robert De Niro. Leggenda del cinema. Ma l'organizzazione è tutt'altro che perfetta. Intervista di Gianni Morandi e traduzione simultanea di Elisabetta Canalis. Risultato? Domande a dir poco agghiaccianti e dialogo elefantiaco. Festival di Sanremo 2012. Belen Rodriguez insieme alla già citata Elisabetta Canalis al fianco di Gianni Morandi. Una bellezza raggelante ma anche al centro della bufera per le mise audaci. Fino ad arrivare al Farfallina Gate. In una serata la showgirl argentina sfodera uno spacco a mostrare il tatuaggio su linguine. Social impazziti. Rete in subbuglio. Immagini virali e polemica servita sul piatto d'argento. In tema di cadute memorabili. Impossibile non citare la disavventura di Bianca Balti nel 2013. Tradita dai tacchi. La modella scivola e si accascia. Per poi ritrovare quasi subito l'equilibrio. Nulla di grave. Se non l'intervento simpatico di Luciana Littizzetto. Portavoce della normalità. Un cicero euro. Un cicero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.